Noi abbiamo fatto una disanima nel rapporto dell'European House Ambrosetti dell'ActaTank Sicilia che vuole identificare certamente i problemi perché ce ne sono tanti e da lì bisogna partire ma anche e soprattutto le opportunità. Una delle aree di opportunità che noi attenzioniamo è proprio quella dell'ambiente, della circolarità, del riuso e delle energie rinnovabili. E lì c'è un potenziale immenso, intanto già oggi nell'eolico e nel solare abbiamo buone posizioni nella classifica nazionale, siamo rispettivamente a secondi e quinti ma molto c'è ancora da esplodere ma pensiamo a vettori di opportunità nuovi, ad esempio l'idrogeno dove ancora non c'è grande produzione e che può essere per la regione siciliana una grande opportunità. Pensiamo all'energia dal moto ondoso pensiamo all'energia ricavabile dal wind offshore floating, cioè dalle piattaforme eoliche galleggianti dobbiamo anche preservare le nostre risorse. Voglio anche ricordare nell'ambito della valorizzazione del territorio che abbiamo proprio in Sicilia uno dei centri di ricerca sulla biodiversità tra i più importanti d'Europa. La città con la maggior biodiversità d'Europa è Milazzo. Bisogna dare merito a Arpa Sicilia, bisogna dare merito all'assessorato ambiente per il cambio di marcia che è in essere e per le iniziative importanti che si stanno sviluppando.